carissimi amici amiche bentornati e ben ritrovati vedo numerosissimi dalla diretta per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata alla nostra cara tenera amata a questo bel testo a questa lettura commentata di questo testo bello ma anche un po per certi aspetti difficilotto controverso perché non tutti capiscono bene alcune cose afferrano bene alcune cose questo testo amici miei facciamo una piccola premessa non è una realtà come dire di facile accesso e già quando noi entriamo in diretto contatto con l'altissimo dobbiamo sempre pensare alcune cose dobbiamo essere pronti a come dire a resettare a rimodulare alcuni nostri schemi mentali tutti quanti noi abbiamo un'idea ci facciamo un'idea normale di dio ci facciamo anche un'idea delle verità di fede cioè la formulazione delle verità di fede è come dire è sempre abbastanza asettica quindi la cosa che è importante di una verità di fede è ritenere l'essenza la sostanza no noi diciamo per esempio che dio è uno e trino alzi la mano chi si immagina come siano le tre persone della santissima trinità vediamo io non me lo so immaginare forse ci possiamo immaginare siamo anche aiutati dai quadri dall'immagine della divina misericordia da tante belle cose come era l'umanità santissima del verbo fatto carne ma chi è capace di immaginare sia tre persone della santissima trinità nessuno però qualche vaga idea noi ce la facciamo in testa no è così il paradiso come sarà il paradiso chi di noi è in grado di farsi però magari qualche idea ce la facciamo no non è escluso che qualcuno magari anche in ottima fede non 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 in cattiva fede si rappresenta il paradiso come una sorta che ne so di grande monastero dove non si fa altro che come si fa in un'arte normale insomma che pregare recitare i salmi cantarli ora sicuramente queste cose in qualche modo presumibilmente in paradiso ci dovranno stare no ma è solo questo tutto qui nessuno di noi c'è mai stato in paradiso evidente che questo testo ci pone dinanzi una serie di realtà alcune delle quali possono anche sconvolgere alcuni nostri canoni come per esempio li sconvolgono alcune esperienze di alcuni mistici di alcuni santi straordinari c'è chi si scandalizza d'accordo c'è chi si scandalizza che il nostro signore gesù cristo un bel giorno ha preso santa margherita maria la cocca gli si è scoperto il petto e l'ha tenuta labbra su labbra e quindi le sue le sue labbra materiali sulle labbra della ferita aperta del sacro cuore facendo fuori uscire il suo sangue c'è chi si scandalizza di questo c'è chi si scandalizza che gesù cristo in persona ha dato dei baci ma baci baci non bacetti o affettuosi alla serva di dio luisa piccarreta e guardate che se uno ha dei dubbi basta che legge perché qualche anima che mi hanno detto anche a me che si scandalizzavano dicevano no no ma non sono mica baci come si danno due baci due due innamorati saranno un'altra cosa a un certo punto c'è un'espressione molto esplicita di luisa che fa capire che è proprio un bacio bacio non un bacetto affettuoso e allora se uno vede una cosa di questo genere che cosa pensa forse che gesù farà un peccato mortale perché o lo fa luisa o questa è una pazza visionaria che racconta delle cose che non sono mai successe che come dire sta profanando l'immagine di nostro signore cioè attenzione che bisogna essere sempre molto 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 attenti e se uno si legge il diario di santa veronica giuliani che a certo punto il nostro signore le cavava il cuore glielo proprio estraeva dallo sterno e gli metteva al posto del cuore di lei il sacratissimo cuore di gesù e viceversa facevano queste operazioni ma non metaforicamente quando santa veronica è morta hanno gli hanno gli hanno fatto una specie di autopsia gli hanno estratto il cuore ma nel cuore di santa veronica c'erano impressi i segni della passione le scritte il nome di gesù adesso non mi ricordo adesso non mi ricordo i dettagli d'accordo ma i chiodi erano impressi nel cuore di carne di santa veronica chiaro quindi prima di sparare dico queste cose perché questo è un ciclo di carichesi che è partito dalla grande sembra molto seguito per me per carità non c'è niente di personale sono contento che sia seguito perché ne vale la pena perché è bello pensare a un po di cose belle accogliere anche dei doni che il signore ci ha dato questo è un dono questo qui come tutti quanti i doni incontra inevitabilmente delle controversie per quanto mi riguarda oltre a questo i doni più belli che il nostro signore ha fatto alla sua chiesa sono l'opera di maria valtorta e gli iscritti di risa piccarreta chi conosce la storia di queste di queste di queste povere misti povere insomma grandi mistiche e dei loro scritti sa bene tutti quanti i guai che hanno passato e come ci siano ancora appiccicate contro di loro delle tristi etichette dipendenti da varie vicissitudini di fatti che non hanno niente di come dire di assolutamente incontrovertibile d'accordo perché si tratta di opinioni fallaci d'accordo però ci hanno ancora queste tipette appiccicate io personalmente mio umilissimo parere personale attribuisco tutte quante queste cose avendo un pochino di esperienza sacerdotale alla furia satanica che quando vede un dono così grande dell'altissimo e ben consapevole del bene che possa fare a tante anime fa il fini mondo per renderlo inaccessibile o per spaventare le persone oppure per per tenerle comunque qualche modo lontano perché altrimenti il suo stramaledetto regno ne ha un documento quindi è chiaro che se uno non ha la mente aperta è disponibile e soprattutto non è anche un pochino flessibilmente disposto a come dire a smontare alcuni schemi mentali che ha non c'è possibilità entrare nella quinta dimensione con tenera amata significa anche provare a rappresentarci come sarebbe stata la vita dell'uomo senza il peccato originale c'è gente che non coglie il nesso ho detto che questo libro l'ha tradotto Don Pablo Martino non coglie il nesso da queste cose la divina volontà ma come non lo coglie cioè il libro di tenera amata è la storia della divina volontà di molto probabilmente come sarebbero state molte cose fin dal pianeta terra se non ci fosse stato il peccato e come purtroppo ora non sono più e non sono più per volontà di Dio perché stiamo sotto un regime e tenera amata ce lo farà vedere quant'è severo questo regime di tutte quante le cose che lei qui racconta sul pianeta terra non possiamo vivere praticamente quasi niente d'accordo ma perché però perché stiamo in una condizione di interdizione ho già detto che questo ciclo di catechesi veramente forma come dire un'armonia da un lato con il ciclo di catechesi sul peccato originale e dall'altro con il lavoro che per grazia di Dio speriamo insomma il signore ha messo a fare con la divina volontà e con gli scritti di Luisa Piccarreta perché è come sono come delle tessere di un mosaico che si vanno componendo gradualmente è chiaro che queste cose come si legge anche nella prefazione come Don Pablo ha scritto anche nel testo di commento cioè aprono delle prospettive relativamente nuove sentiremo che tenera amata dirà un giorno queste cose faranno parte del magistero della chiesa lo dice lei quindi ai posteri la tua sentenza è chiaro che al momento aprono delle prospettive prospettive a cui uno può dare credito o non dare credito ho già detto che questo ciclo di catechesi come tutti quanti i cicli di catechesi che vanno come dire a coinvolgere mistici e rivelazioni private ha delle prospettive che sono opinabili come del resto il ciclo di catechesi dell'anno scorso sul peccato originale anche se ci sono autorità molto grosse che autorizzano una certa lettura del peccato originale non ci sono a riguardo definizioni magisteriali e quindi si è completamente liberi però come ho detto tante volte queste cose non è che sono inutili cioè allora se uno è libero se queste cose non sono sicure è inutile occuparsene a calma non è inutile perché altrimenti il nostro signore non avrebbe neanche detto alcune cose non avrebbe neanche rivelate alcune cose inutile no perché comunque ci si aprono delle prospettive ci si fanno delle idee più adeguate ricordate la volta scorsa adesso cominciamo a entrare non quello che diceva tenera amata non le convinzioni operative le convinzioni operative che sono importantissime e che sono alimentate da tutte queste cose bene dieci minuti di premessa sono anche troppi riprendiamo la lettura del testo dove ci siamo fermati la volta scorsa per chi c'è la versione digitale nei pdf siamo a pagina 10 allora eravamo rimasti che lei gli aveva appena rivelato che il signore ha stabilito una serie di amori impossibili da realizzarsi sulla terra impossibili per tante motivazioni che poi spiegherà ma che si realizzeranno in cielo perché scocchi questo questo legame questa scintilla basta che una sola delle parti in causa sia coinvolta detto questo riprendiamo e rilasciamo i nodi avevo sentito qualcosa di grandioso la mia bella visitatrice mi ama e arriverà un giorno che il nostro amore ineffabilmente pienamente si realizzerà gongolavo di gioia mi sembrava che tutti gli amori della mia vita si fondevano nell'amore della mia amata defunta che tutti ritornevano alla forma da cui avevano avuto l'origine per dare maggior vita all'archetipo quanta felicità mi attende nella patria futura notai nella mia amata compagna malgrado la sua pudica indifferenza un'emozione simile alla mia che traspariva dal rossore delle sue guance e dallo sfavillare più brillante dell'espressione del suo sguardo lei di nuovo mi toccò leggermente forse per evitare che mi ammalassi di gioia bella questa espressione che mi ammalassi di gioia tuttavia non potevo io riflettere con calma in mezzo a quelle emozioni la bellezza della mia visitatrice il sapere che era un'incantevole beata il suo indicibile amore verso di me il ricordo di lei vissuto di nuovo la mia incertezza tra il sonno e la veglia e quel mistero delle paralisi l'immagine sul televisore il fumo della sigaretta è me stesso che altro vuoi sapere? mi domandò mi quietai il più possibile cercai di farle un'altra domanda delle tante che mi sono venute alla mente riguardo a tutto ciò non me ne veniva nessuno che inopportuno stordimento riuscii appena a dirle che cosa fanno i beati in cielo? risposta amare il nostro Dio godere il suo amore e il suo potere amare tutti gli esseri dell'universo e godere insieme con loro fino al limite del grado di gloria raggiunto su questa terra ah guardate questa espressione perfettamente compatibile con ciò che sappiamo adesso insomma dalla rivelazione non è altro che una esemplificazione una prima esemplificazione della beatitudine amare Dio e godere il suo amore godere anche del suo potere e tra l'altro anche partecipare del suo potere come vedremo amare tutti gli esseri dell'universo la relazione che c'è con la divina volontà tutte le creature che Dio ha creato tutte contengono un ti amo per noi noi non siamo capaci né di riconoscerlo bene in questa vita né tanto meno di ricambiarlo e nemmeno di goderne adeguatamente quindi amare tutti gli esseri dell'universo godere insieme con loro fino a che punto quanto fino al limite del grado di gloria raggiunto su questa terra te ne ramate in diverse circostanze dirà al suo interlocutore che è un'anima bassa in paradiso e lui si stupisce dice mazza tu sei un'anima bassa e sei così bella e già e stai così alla grande e chi arriva in alto è e tutto il senso del suo discorso è guarda questo non voleva ora di morire dice sì ti capisco però non limitarti a non vedere l'ora di di morire dopo che ti ho rivelato parte di quanto è grande la gioia del cielo ma cerca di vivere la vita terrenale grande cerca di salire in gloria cerca di moltiplicare le opere sante le opere buone per la gloria di Dio per la salvezza del prossimo inventa tutto quello che ti pare perché più glorie avrai e più tutte queste cose le godrai cioè il godimento delle delizie del paradiso è proporzionato ai meriti questo l'ha sempre segnato la chiesa non stanno tutti quanti allo stesso modo in paradiso voi capite se uno trasforma queste cose in convinzioni operative no? non so se fosse detto anche bene il discorso oggi per esempio è venerdì giorno tradizionalmente di digiuno specie dopo certe apparizioni che hanno rilanciato queste cose qui ma tu lo sai che ogni digiuno che fai stai tranquillo che sono dei meriti molto grandi acquisiti dinanzi al Signore no? ma soffro sto male c'ho il mal di testa e vabbè sai quel mal di testa quanto ti frutta in paradiso non dobbiamo fare le cose solo per questo motivo d'accordo? perché il digiuno si fa per amore di Dio per espiare i peccati per convertire i peccatori aiutare il Signore in questa operazione per carità va bene ma la convinzione operativa che questa non è una cosa che è perduta non è la stessa cosa farlo o non farlo e questo non è non è cosa da nulla per cui se uno si sente già una puntata di tenera mate l'effetto è che comincerà ad essere più fervoroso nelle opere sante di bene benissimo ho fatto benissimo a fare questo ciclo di catechesi allora proseguo la lettura cercherò di dimostrarti più avanti la dilettevole attenzione compenetrazione fisico-spirituale tra i glorificati affini cominciamo a familiarizzarci con questo termine compenetrazione che supera immensamente in intensità durata qualità e modo il migliore dei piaceri della terra tu devi sapere che l'eterna beatitudine ha due aspetti questo è magistero della chiesa lo dico io che lo conosco il godimento diretto del creatore quella che San Tommaso chiama la gloria essenziale San Tommaso d'Aquino e il godimento dei beni da lui creati ciò che tecnicamente si chiama la gloria accidentale tutte e due ci sono in paradiso tutte e due la prima cosa la visione e il possesso diretto del nostro Dio per amore oh guardate lo dice anche qui viene chiamata la gloria essenziale perché è la migliore io non me lo ricordavo ho girato adesso la pagina la seconda cioè i piaceri e i godimenti che nel cielo ci procura l'universo creato costituisce la gloria occidentale qui amici cari qualche perdonatemi non vorrei non vorrei dare epiteri qualche anima chiamiamola così un po' precipitosa che sa per esempio alcune cose che racconta più avanti tenera amata e che le spiega anche perché ma scusate ma tutte quante le cose belle che Dio ha creato provate un attimo a pensarci per esempio i sapori dei cibi finiranno nel nulla sono limitati a questa vita terrena che tra l'altro in questa vita terrena dobbiamo stare pure attenti dobbiamo stare in questa vita terrena si possono fare una montagna di peccati di gola e non si devono fare perché come dire il ti amo collegato al godimento che il Signore ci ha messo nella differenziazione quasi infinita dei sapori che ci danno le cose che mangiamo è guastato dal peccato originale e quindi che succede? succede che uno esagera è ingordo come dire ci mette il cuore trasforma questi piaceri nel massimo della vita ci sono persone che diventano obese e si danneggiano la salute di brutto fanno una montagna di peccati quindi qui è pericoloso di là non c'è nessun pericolo ma immaginate tutta quanta l'infinita varietà per esempio di vini e di liquori di bevande alcoliche dici che cosa sono queste cose ma come che cosa sono ma cioè amici voi sapete che alcuni monaci per esempio a Norcia mi cari amici fanno la birra producono la nurzia che è buonissima avete mai sentito i trappisti che producono gli amari i trappisti ma anche altri monaci gli amari hanno le distillerie dentro i monasteri ma scusate che è possibile che in un monastero viene prodotta una cosa per indurre le persone a peccare cioè secondo voi bersi un un dito di amaro dei trappisti è peccato io provo quello lo faccio apposta lo faccio i trappisti di Roma quelli vicino alle tre fontane andate la cioccolata dei trappisti di Roma quella è veramente una tentazione perpetua allora da dove vengono queste cose i sapori delle cose create la bontà delle cose create da dove viene è un caso o sono creazioni dell'altissimo lo spiega più avanti i sapori che noi sentiamo non sono altro che un giochetto di atomi eh già un giochetto di atomi è un giochetto di atomi che però colui che riconosce bene se ne ha inventati infinite variabili solo che qui dobbiamo andarci piano qui dobbiamo andarci piano lì non c'è nessun problema dopo non c'è nessun problema dice eh ma ti pare che il paradiso è una cosa per gli ottoni ma non è una cosa per gli ottoni perché non c'è solo quello in paradiso ma c'è anche quello perché non dovrebbe esserci perché l'unica cosa che non c'è come vedremo sono quei piaceri balordi ma guarda un po' l'unica cosa che non c'è lo dirà tenera amata cosa vuol dire qual è non dice tenera amata lo dice il Vangelo però i piaceri sessuali ma come non ci stanno i piaceri sessuali che sono i piaceri non ci sono ma le cose buone da mangiare ci sono vedremo i liquori ci sono le danze gli sport una montagna di cose vedremo e quello non c'è perché è una cosa talmente bassa che i beati se anche ci fosse ma manco la guarderebbero pensate questo come scoinvolge alcuni parametri della nostra esistenza allora la seconda i piaceri e i godimenti che nel cielo ci procura un universo creato costituisce la gloria accidentale in questo colloquio parleremo soltanto della gloria accidentale che è la minore lasceremo per un'altra occasione la gloria essenziale un'altra occasione che non c'è stata dice com'è il cielo belle domande non sono le domande che in fondo in fondo ci portiamo tutti quanti nel cuore detto che fanno in paradisi beati un'altra domanda la seconda com'è il cielo sentite che risposta il cielo è la beatitudine con la B maiuscola e che cosa è la beatitudine piena felicità e godimento con le lodi poi come ce lo immaginiamo noi il paradiso che ce lo immaginiamo come che ne so come sarà è un posto è un una volta uno mi ha scritto che non a me dice oh ma in paradisi sarà qualche miliardo di persone ma non staranno un po' stretti ma non si tratta tu ce mettiamo tutta sta gente ascoltiamo questa ragazza chiamiamola così ma non si tratta di un recinto speciale come una specie di grande cattedrale o di un enorme stadio stanno tutti i gatti là dentro affa che no il cielo consiste nella felicità immensa dei beati il cielo è tutto il cosmo ammirabilmente strutturato dal nostro dio per procurarci un'infinità di vivissime gioie e piaceri chiaro questo qui tu dici il nesso con la divina volontà qualcuno mi ha scritto quale sarebbe il nesso di questi scritti con la divina volontà perché se ne ha preoccupato Don Pablo Martino dico ma chi ha scritto queste cose ma dico ma tu la conosci la divina volontà quello che ha detto qui è la quinta essenza della divina volontà perché la divina volontà riposa nella creazione in tutto ciò che Dio ha creato per noi per noi per gli uomini per il nostro godimento e noi qui non lo possiamo vivere perfettamente non lo sappiamo riconoscere perché c'è il peccato hai ricordato gente che mi scrive dice Don Leonardo ma come si fanno a fare i giri a me sta cosa mi sembra una cosa meccanica non so buono te capisco che non si è buono perché non ti viene spontaneo non ci viene più spontaneo adesso non siamo capaci di vederle queste cose alcune cose non siamo capaci di vederle altre cose non abbiamo la portata i vulcani galattici di cui parlerà dopo che ci stanno in alcune galassie e quelli vanno a danzare dentro i vulcani ci dirà più avanti ma io non ci posso andare a come ci arrivo là dove vado adesso in questa condizione ripeto tutto il cosmo ammirabilmente strutturato dal nostro Dio per darci un'infinità di vivissime gioie e piaceri ma questo Dio cioè Dio è questo capite anche tutta la dimensione terrena attenzione noi qui abbiamo la croce l'altro ieri è stata la festa dell'esaltazione della santa croce ieri era la dolorata qui dobbiamo passare un sacco di rinunce io ho fatto l'omeria alla messa di oggi se Cristo non è risorto noi dobbiamo prendere una rivoltella e dacci una revolverata in testa perché siamo i più stupidi del mondo se Cristo non è risorto da compiungere tutti gli uomini dice San Paolo perché perché in questa vita devi fare una vita nel sacco di rinunce se vuoi fare una vita cristiana ma perché a causa del peccato queste non sono cose che Dio vorrebbe in maniera assoluta anche la croce Dio la vuole come non la vuole ma perché ci siamo ridotti così se l'uomo non avesse peccato il verbo si sarebbe fatto carne ma nessuno penserà che sarebbe andato a morire in croce tutto quello che noi viviamo tutti i sacrifici le penitenze le mortificazioni dobbiamo farne tante le prove le tribolazioni i lutti le lacrime sì tante ce ne aspettano e qui però ma solo a causa del peccato Dio queste cose qui non le vorrebbe in se stesse e per se stesse non le vuole adesso perché non c'è altro sistema dopo il peccato certo che lo vuole ma dopo il peccato quindi è più che lecito pensare ma Adamo ed Eva prima del peccato originale gli iscritti di Luisa dicono che il peccato originale non è che è stato commesso dopo dopo tre ore che erano creati sono passati decenni forse e come campavano come sono accampati i primi cent'anni come sarebbe stata l'umanità ad esempio in questo momento prosegue il mio cielo è questa stanza della tua casa perché adesso e qui sto godendo la gloria che mi diede l'altissimo dovunque si trova la felicità celeste la porto con me dovunque io mi trovi ma come è scesa sulla terra voi capite non è un problema di dove stai perché se stai sulla terra o se stai in qualche galassia che ne so lo vanno a finire questi dopo qualcosa se lo dice non è il problema del dove è il problema di come ci stai questa è uscita dalla dimensione della vita terrena è entrata nella gloria celeste quindi dovunque si muove ma voi sapete che un sacco di santi di angeli partecipano alle nostre liturgie partecipano alla messa ci sta un'apparizione di santi di beati padre pio appare realmente tante volte è successo ma voi pensate quando padre pio appare a qualcuno che non sta più bene quello si porta dietro la beatitudine che ha dovunque si trovi la felicità celeste la porto come dovunque io mi trovi come vedi nella patria tutto è amore gaudio e qualcosa di simile dovrebbe accadere tra i mortali attenzione attenzione a questa frase che pesano qualcosa di simile dovrebbe accadere tra i mortali allora così ce lo scordiamo ma quante volte io sono so anni che sto a mezzo alla divina volontà cioè che cos'è la vita della divina volontà allora così non ci arriviamo però si può vivere qui sulla terra una vita felice certo che si può non a questi livelli ma si può è una felicità sui generis perché è una felicità il fiore della madonna è la rosa la madonna è la donna più felice del mondo è la donna più sofferente del mondo qui sulla terra questa felicità si mischia si fonde in maniera inestricabile come quelle liane che stanno nelle foreste africane che non le puoi disgiungere con la croce però è una cosa reale i cristiani sono certamente i crocifissi ma sono felici anche qui non solo dopo Santa Gemma amava a dire che cos'è la vita terrena amare patendo che cos'è la vita celeste amare godendo capiamo no qualcosa di simile dovrebbe accadere tra i mortali e perché non accadere per colpa del peccato ma guarda l'originale per primo e poi il peccato personale attuale che si aggiunge a quello si intreccia e complica fino a formare il tremendo peccato del mondo voi immaginate i trilioni di triliardi di trilioni di peccati che sono stati commessi da dopo il peccato originale in poi a quanti ne vengono commessi ogni giorno a pensare soltanto a tutte le bestemme che si dicono ogni giorno o a tutti gli atti impuri che si fanno in una giornata 7 miliardi di persone capiamo che numeri che escono fuori pazzeschi ecco perché è importante che i buoni moltiplichino atti buoni sacrifici di cose perché l'equilibrio in qualche modo deve essere mantenuto e che cosa è successo il male morale ha sconvolto i piani divini capito sconvolto i piani divini le cose non sono andate come Dio avrebbe disposto e voluto questo se lo dobbiamo mettere bene in testa e la colpa è la nostra Dio non c'entra niente non c'entra non dico che li abbia nullificati i piani divini non sono ridotti a nulla ma li ha complicati e ritardati li complica e li ritarda e addirittura sentite converte in dolore ciò che dovrebbe essere Gaudio le cose che ci siamo detti fino adesso questa è la quinta essenza della dottrina cattolica qui le cose che ha appena detto non sono opinabili non sono chiacchiere dette dal visionario la vista o non la vista vista o non vista visionario o non visionario questo che ha detto io lo predico da da quando sono prete da vent'anni quasi e lo predico non perché me lo sono inventato perché so che questa è la è la sana dottrina cattolica ma io a questo ci credo ma no ma ci credo di più non ho nessun dubbio che sia così nessunissimo qual è il tuo nome le chiesi con curiosità quindi quarta domanda quindi attenzione siamo cominciati abbiamo cominciato ripetiamole cosa fanno i beati com'è il cielo perché non accade tra i mortali quello che accade nel cielo e poi qual è il tuo nome sentite che risponde il mio nome sulla terra ormai non ha importanza e adesso attenzione perché qui arriviamo a uno dei momenti clou il mio nome nuovo nel cielo è confidenziale perché devi sapere che il nostro Dio nel glorificarci rivela segretamente ad ogni beato il suo nome nuovo cioè il nome che esprime con esattezza il modo di essere preciso e individuale di ciascuno anche qui non sono idee di tenera amata perché qui c'è il libro dell'Apocalisse Apocalisse 2 17 dice al vincitore io darò dice il Signore una manna occulta e gli darò un sassolino bianco nel quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve allora chiunque tu sia che mi stia ascoltando lo dico anche a me sappi come ti chiami Francesco Nicola Giovanni Federico Andrea Giuseppina come te pare questo è il tuo nome di battesimo amalo d'accordo perché facciamo tutti quanti pace col nostro nome ma quello non è il tuo nome chi sei tu chi sono io noi sappiamo che siamo creature uniche e irripetibili quello che sono io non è mai stato nessuno non sarà mai nessuno ma questo lo puoi dire anche tu chiunque tu sia Dio non fa mai una cosa uguale all'altra è una delle sue caratteristiche ma chi sono io in fondo qual è la mia identità profonda qual è il mio essere preciso qual è quella particolarità quella sfumatura quella specificità che fa di me dicendo di me sto dicendo anche di te la stessa cosa ci capiamo un essere unico il nome nuovo riprendo la lettura il nome nuovo spiega chiaramente la personalità esclusiva la personalità e attenzione sulla base di questi nomi nuovi che si creano perché Dio crea anche le relazioni le relazioni d'amore quando si sente una certa simpatia una certa affinità con qualcuno c'è qualcosa di più grande di noi personalità esclusiva e attenzione un'altra cosa anche la particolare funzione di felicità che ognuno dovrà godere nel cielo nel nome nuovo ma c'è anche un'altra cosa adesso come vedremo è la definizione esatta di ogni beato glorificato guardate che noi non ci conosciamo mica tanto bene io mica mi conosco tanto bene a me stesso un po' sì ma mica tanto ci capiamo tutti bene fino in fondo sapremmo descriverci identificarci fino in fondo è la rivelazione luminosa della sua vocazione terrestre e celeste non può immaginare con quale giubilo e riconoscenza il beato glorificato accoglie il suo nome nuovo pensate quel giorno se arriviamo in paradiso ragazzi finalmente saprai quello che Dio si è inventato creandoti che t'ha creato va a fare tanta roba questa qui ragazzi conosce allora l'essenza della sua personalità e vede che si addice esattamente alla sua eterna vocazione di gioie e piaceri noi siamo chiamati a gioie e piaceri chiaro Dio non è tristezza Dio non è sofferenza Dio non è bruttura angoscia questa è una rappresentazione che presenta il diavolo di Dio ripeto un'altra cosa che in questa vita dobbiamo passare attraverso questo grogiolo ce lo dirà anche tenera amata ovviamente ma questo non è stato voluto e creato da Dio questo l'abbiamo creato noi e dentro questo regime Dio ha dato una legge molto severa perché non ce n'è altra possibile ma non pensiamo mai che noi siamo stati creati per soffrire noi siamo stati creati per godere per provare tutti i piaceri possibili e immaginabili salvo quelli illeciti e quelli indegni degli esseri umani il nome nuovo proseguo è un segreto perché si riferisce attenzione soprattutto alla gloria essenziale che si va a godere direttamente col nostro Dio e poi attenzione e perché concerne le sottili caratteristiche o sfumature particolari d'amore con cui eternamente si ameranno all'altissimo il neo glorificato allora capito nel nome nuovo c'è c'è tra le altre cose quella relazione particolare d'amore con Dio che tu solo puoi avere ed io solo posso avere cioè c'è una sfumatura particolare di amore nell'infinito amore di Dio con cui lui amerà soltanto me e attenzione però in me c'è una sfumatura creata evidentemente di amore espressa dal mio nome che soltanto io posso dare al Signore un altro può amare il Signore molto di più di me moltissimo ma non allo stesso modo ecco perché è un guaio anche un'anima che si danna lo sentiremo perché priva il Paradiso tutti beati e in un certo senso reale anche se questo non compromette evidentemente l'immutabile eterna beatitudine divina ma priva Dio di avere di ritorno quella sfumatura particolare d'amore che quella creatura doveva dare fa parte della gloria accidentale dell'altissimo perché anche nell'altissimo c'è la gloria essenziale e la gloria accidentale anche nell'altissimo quindi e quella non tocca assolutamente la sua gloria essenziale però è così questo vale anche in questo mondo quando una persona impara a pregare la preghiera profonda la preghiera amorosa la preghiera contemplativa e come si fa e come non si fa e io non so pregare ti devi mettere davanti all'altissimo vattene davanti al tabernacolo vattene davanti al santissimo esposto e poi si te stesso a volte il nostro signore prima che comincia una persona a pregare possono passare settimane forse mesi forse anni forse forse anni in cui tu stai là che ti sembra che sei una statua che ti sembra che stai a perdere tempo che ti sembra che parli da solo che non sai che di allora non sai che di tacchi col rosario tacchi col padre nostro leggi qualche libretto che sta a palla davanti a frega l'orbo non ti viene niente ti verrà perché non c'è nessuno che tu lo deve insegnare questo qui devi semplicemente fare in modo di attivare le sorgenti che sono già nel tuo cuore e che certamente il nostro signore ti viene incontro te l'attiva lui te l'attiva però ti ci devi mettere ti ci devi mettere con pazienza con costanza con perseveranza quindi attenzione le sottili caratteristiche sfumature particolari d'amore con cui eternamente si amairanno l'altissimo e il neovlorificato include il principale godimento che questo beato attenzione guarda tutto questo contenuto nel nome nuovo il principale godimento che questo beato riceverà dall'intero universo cioè c'è un godimento peculiare di ogni beato ricevuto dall'universo intero cioè da tutti quanti i beni infiniti l'universo è infinito con cui si entrerà a contatto ma voi che dice cioè proviamo a sforzarci cioè Dio stesso è infinito e l'universo stesso è infinito voi capite cosa significa entrare in un'altra vita che cos'è la vita eterna cioè un'infinità non finisce mai non è che non finisce mai non finisce mai diventando ad ogni istante sempre diverso e sempre nuovo al top possibile ogni sorta di condimento possibile immaginabile infinito Dio è infinito pure l'universo quindi infinita la beatitudine che ti viene direttamente dall'altissimo è infinita la beatitudine che ti viene da tutte le altre cose create ecco perché San Tommaso che forse queste cose forse le aveva viste in visione non le sapeva a un certo punto unico passaggio quando scrive la Somma contro Gentiles quando parlava di alcune cose gli è scappata l'unico l'unico momento in tutte le sue opere in cui lui sempre è ferrico compassato e freddo per le sue analisi speculative dice si vergognino quelli che per andare appresso a quattro bagattelle disprezzano e si perdono cose del genere perché chi è dannato queste cose qui non le vedrà mai e i dannati non sono quattro gatti amici miei l'inferno è pieno di gente pieno di gente pieno non è vuoto è pieno strapieno ho immaginato un dannato che avrà una pallida percezione di tutto questo che si è perso per tutta l'eternità senza poterci fare niente senza poterti per amico prendere una rivoltella e sparate che uno sarebbe tutta l'altra ragione possibile che sparasse ma non ti puoi sparare giusto a niente la sparasse includere il principale godimento che questo obbiato riceverà dall'un interno verso e attenzione è quello che lui darà al resto del cosmo io tu stai attenta lo ridirà tante volte se io non vado in paradiso oltre a fare un danno a me io la faccio anche agli altri beati e in un certo senso all'altissimo che gli impedisco di godere quella particolare sfumatura d'amore che dentro di me mi porto io la faccio all'universo intero perché quel godimento che io posso dare agli altri beati e all'universo non ce l'avranno se non ci vado in paradiso chiaro? ma è anche un segreto in questa vita tutto quello che ha detto a causa del peccato che ogni cosa oscura quindi noi del nostro nome nuovo qui non ne sappiamo un H zero chiaro? zero dice non vorresti rivelarmi il tuo nome nuovo? si sarà fatta un'alisata come? please? excuse me? impossibile sentite perché ti ucciderebbe di gioia attenzione sentire il nome nuovo non il suo ma di un'altra anima glorificata solo sentirlo non lo reggeremmo in questa vita perché moriremmo di gioia si può morire di gioia urca certo che sì cioè sentire il nome nuovo di una creatura diversa da me mi ucciderebbe dalla gioia pensa se mi dicesse l'altissimo il nome mio adesso o il tuo a te sentite come puoi aggiungere cioè ragazzi scusate adesso io qui ti divago non vorrei apparire superbo non vorrei ne apparire preghiamo il signore che non lo sia cioè ragazzi io un pochino di teologia la conosco perché l'ho studiata perché c'è un dottorato al riguardo cioè di libri dei santi ne ho letti proprio tanti ne ho letti tanti tanti e tante volte quindi quando sento dire certe cose libri di dottori di gente veramente che sta su un altro pianeta molta gente che quando mi sente parlare dice Don Leonardo non c'è niente cioè Don Leonardo ripete a Pappacaro le cose che ha imparato non è nessuno non è cioè è semplicemente stata l'ho detto altre volte il mio desiderio la mia passione di conoscere io ho avuto un'esperienza forte dell'altissimo quindi mi sono rivolto a tutti non sai che santo vuoi darmi tutti mi sono appiati ai santi perché volevo conoscere dico chi è che lo conosce l'altissimo meglio di loro i santi i dottori della chiesa i grandi maestri di dottrina a cui il signore gli ha dato la luce e i grandi maestri di mistica a cui il signore gli ha dato l'amore sono loro che ti iniziano a questo mondo e io mi sono lasciato iniziare molto volentieri stavo lì come uno spettatore dico ammazza che bello beati loro sono sempre stato uno spettatore però quando alla luce di quello che ho imparato sento dire questo che sto per leggere qualsiasi nozione rigorosamente celeste causa un gaudio incompatibile con la vita terrestre basta aprire la summa teologia di San Tommaso ma basta anche leggere la Sagra Scrittura nessuno può vedere Dio e rimanere vivo noi pensiamo nessuno ah perché saremmo folgorati saremmo a ter non ce la fai non puoi sostenere vedere Dio poi lasciamo proprio perdere cioè non è proprio possibile qualsiasi nozione rigorosamente celeste quindi che venisse comunicata alla creatura terrestre siccate semplicità lo stato puro non è possibile perché causa un gaudio incompatibile con la vita terrestre noi qui stiamo in una situazione di interdizione cominciamocelo con questo concetto qui stiamo messi male stiamo messi in questa vita ma proprio male 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 e il Signore ci concede a tutti quanti la sapienza per poterlo vedere i santi per quanto ci dovrebbe riguardare i santi sono sempre gli altri perché se uno ha un pochino di luce da parte dell'altissimo che gli consente di vedere e io ve lo auguro e me lo auguro gli innumerevoli innumerevoli peccati negligenze offese imperfezioni che se uno volesse andare a fare la confessione di devozione quella settimanale e Dio gli desse la luce per vedere tutto quello che combina dalla mattina alla sera e quante imperfezioni avrò commessi da stamattina fino adesso non si contano non ne facciamo almeno per quanto mi riguarda una proprio dritta al cento per cento non la facciamo mai il fondamento della consagrazione totus tuus che quasi nessuno capisce andate nel legge del trattato della vera devozione è proprio questa condizione che la Madonna non aveva peata a lei ma perché la Madonna non c'era il peccato originale io per esempio tu puoi fare qualunque cosa buona che tu puoi fare ma non sarà mai perfetta al cento per cento perché in ogni cosa ci sarà qualche cosa che non funziona qualche sbavatura che hai fatto qualche intenzione non proprio perfetta qualche mancanza qualche strafalcione qualche pastrocchio che inevitabilmente facciamo e Dio ringraziamo il Signore che non ce ne diamo conto perché se il nostro Signore disse a Santa Faustina se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria era detta Santa Faustina che era santa moriresti di dolore se il nostro Signore dice se tu c'hai la cognizione di una cosa perfettamente celeste muori di gioia ma se noi avessimo la cognizione profonda di chi siamo moriremmo di dolore seduta stante quindi con questo qui se qualcuno pensa che te sei santo non lo pensare te da solo di te stesso ne è caldo ne è freddo perché non è vero d'accordo? ecco quindi qualsiasi nozione rigorosamente celeste causa un gato incompatibile con la vita terrestre potresti tuttavia chiamarmi ditelo voi tenera amata ecco il nome di tenera amata da dove viene credo che sia la parola di questo mondo quindi non è nome nuovo ma è una parola di questo mondo che più si avvicina al mio nome nuovo già che possiedo guardate che bella questa cosa una remotissima partecipazione della tenerezza divina tanta roba eh tenera amata sfiorò nuovamente con le sue dita al dorso della mia mano sinistra quasi paralizzata sul bracciolo della poltrona immediatamente mi vivificò e questo me la fece amare ancora di più fu come scoprire in lei una prodigiosa abilità tecnica che sebbene non comprendessi mi unificava ancora di più con la bella abitante del cielo vedete il touch il contatto lo sfiora con le sue dita il dorso della mano sinistra lo metto davanti al dito fa questa le sfiora è proprio le sfiora il touch il contatto la dimensione fondamentale della nostra corporeità che come vedremo completamente non la perdiamo mai altra cosa che se uno non capisce bene questo concetto scandalismo ma come uno muore sta con l'anima separata e come fa a mantenere ancora la corporeità si tratterà di capire che cosa è la quinta dimensione e che cosa è la morte dove c'è una separazione dell'anima ma dall'ultimo istante della mia vita terrena e dal mio cadavere non completamente da me stesso comunque non mettiamo avanti queste cose che ne parleremo a suo tempo il tempo a nostra disposizione per oggi è finito a chi ha seguito la diretta auguro una santa notte a tutti quelli che vedranno il video anche indifferita auguro una santissima vita e spero che tutto questo contribuisca all'edificazione e alla gioia di tutti e soprattutto alle nostre convinzioni operative perché per vivere tutto questo vale davvero la pena di investire molto in tempo fatiche ed energie perché 70-80 anni nei confronti dell'infinito e di tutto questo amici 90 sono sempre niente Dio vi benedica la Santa Vergine sempre dovunque carissimi a tutti vi protegga alla prossima